In questo video andiamo a parlare di un nuovo metodo che potrete utilizzare per promuovere prodotti in affiliazione spedendo una singola mail senza scriverla e senza produrre nessun tipo di contenuto. Andremo a scegliere l'offerta ideale da utilizzare per la nostra promozione e attiveremo dei filtri sul marketplace per avere accesso alle risorse di affiliate che ci permetteranno di effettuare l'intero procedimento nella maniera più veloce possibile. È importante notare che per questa strategia di affiliate marketing per principianti non abbiamo bisogno di leads, non abbiamo bisogno di subscribers e non abbiamo bisogno di nessun database. Tutto verrà curato del software che andremo a utilizzare. Ora prima di cominciare questo tutorial vi prego di cliccare sul mi piace a questo video mi aiuterete davvero molto e sul pulsante subscribe per la notifica immediata di video come questi. Il primo step naturalmente è quello di trovare un prodotto che possiamo promuovere e come in altri tutorial vi dico che sta a voi scegliere il prodotto ideale dipende dal tipo di affiliate che volete utilizzare magari dal tipo di niche nella quale volete essere coinvolti oppure nella lingua che volete parlare attraverso le vostre campaign. In questo caso vi consiglio di andare su due siti se volete andare a promuovere una offerta in lingua inglese come vi consiglio specialmente perché seguendo le istruzioni in questo tutorial non avremo bisogno di parlare la lingua inglese perché tutto quanto è già stato scritto per noi dal creatore del software quindi non dovremo fare assolutamente niente se non andare a scegliere un prodotto e poi andare a copiare e incollare determinate informazioni. Dunque il primo sito che vi consiglio di utilizzare è Digistore24 è andato a creare il vostro account come nel caso di Clickbank che andremo a vedere tra un secondo e qui poi potrete scegliere tutta una serie di prodotti appartenenti a diverse categorie qua potremo andare a effettuare delle modifiche al search string anche se non potremo farle in maniera approfondita come si può fare su Clickbank comunque si andiamo a scegliere la lingua anche se i prodotti all'infuori della lingua inglese ce ne sono pochi e non sono di grande valore quindi scegliete e rimanete sulla lingua inglese qua per il billing type quindi un pagamento singolo un subscription oppure delle rate bimestrale, trimestrale o quello che siano e qua scegliete un prodotto e dovete stare attenti che questo prodotto abbia questa sezione, questo link Affiliate Support Page questo qua esempio ha un sales page però non ha l'affiliate support page quindi se vogliamo effettuare il procedimento in questo tutorial nella maniera più veloce e più diretta possibile dobbiamo avere questa sezione Affiliate Support Page per questo esempio però andiamo come al solito sul Clickbank su Clickbank che possiamo anche mettere in italiano andiamo su Mercato qua su Mercato possiamo scegliere una categoria quella qua a sinistra oppure possiamo andare su questa casella Search e senza scrivere niente andiamo su a cliccare su questa lente di ingrandimento e qui andiamo a vedere i prodotti migliori in questo caso per Rank andiamo a Sort Results by Gravity in questo caso avremo l'accesso prima ai prodotti che stanno vendendo di più sul marketplace di Clickbank naturalmente sono anche quelli con una concorrenza maggiore però in generale questo è il metodo che bisogna utilizzare per trovare i prodotti migliori da promuovere su Clickbank linea di massima poi logicamente ci sono delle eccezioni abbiamo tutta una serie di prodotti che possiamo scegliere anche in questo caso dobbiamo essere sicuri che ci sia questa sezione Affiliate Page se vogliamo filtrare il tutto andiamo a cliccare su questa casella Affiliate Tools Page e in questo caso Clickbank ci restituirà soltanto quei prodotti che hanno questa sezione Affiliate Page andiamo a vedere un paio di prodotti questo qui Glucotrust andiamo un secondo a vedere di cosa si tratta ok sono degli integratori sito web abbastanza semplice non troppo lungo e diretto a volte la semplicità è l'elemento più importante ok questa è la Science Page andiamo ora sulla sezione Affiliate Page vediamo un attimino che cosa ci viene dato comiamo l'Affiliate Page con tutte le nostre informazioni ok Product Details Email Swipes questa è quella che ci interessa comunque se abbiamo anche Immagini Web Banners e via quindi il creatore di questo software ci ha fornito davvero abbastanza materiale che possiamo utilizzare per effettuare la promozione di questo prodotto come detto a noi interessano gli Email Swipes andiamo a cliccare su questo link e qui abbiamo tutti gli Email Swipes che possiamo utilizzare per promuovere questo prodotto che abbiamo detto si chiama Glucotrust andiamo a vedere ne abbiamo Email 3 4 6 ancora quindi abbiamo 10 Email che possiamo utilizzare direi che sono abbastanza quindi per la semplicità di questo video andiamo a promuovere questo prodotto chiamato Glucotrust e queste sono le Email una delle quali andremo a utilizzare nella nostra Campaign dunque il prossimo step è quello di andare su questo sito è il sito che utilizzeremo per andare a spedire la nostra mail qui andiamo su Iscriviti per creare il nostro account qua andiamo a inserire tutte quante le informazioni che ci vengono richiesto nome e cognome dove ci hai sentito nominare l'username, la password e via dicendo ok? e qui abbiamo due mail una cosa a ricordare è questa qui abbiamo due mail la prima Subscribe Email Require e qui è Main Email Require questa è la Main Email la mail principale quindi è quella sulla quale vi verranno spedite le mail dalle altre persone quindi qua dice Gmail Recommended quindi utilizzatele una che magari non utilizzate spesso oppure createne una nuova vi consiglio di utilizzare quella che utilizzate per tutti i giorni copia invece una Subscribe Email questa invece è la mail che utilizzerete per inviare i messaggi agli altri quindi potete utilizzare la stessa email in queste due sezioni quindi dipende da voi quello che volete fare comunque si andate a completare tutti questi fields e create un account ok? qui possiamo vedere il nostro account has been validated ok? il prossimo step è quello naturalmente di andare a cliccare su Submit Add qua possiamo andare a vedere le regole principali che dobbiamo andare a seguire in inglese naturalmente possiamo tradurre il tutto in italiano nel consueto modo dopodiché qua abbiamo la sezione dove poter andare a inserire la nostra mail quindi abbiamo detto abbiamo il nostro prodotto che era GetGlucoTrust dov'è? questo qui e qui abbiamo le nostre mail le nostre swipes allora qui abbiamo il subject line subject line se torniamo un attimino alla prima mail è uno di questi email 1 subject lines to choose from quindi i subject line da scegliere sono questi possiamo scegliere una di questi 1, 2, 3, 4 disponibili scegliamo questo qua esempio il numero 3 lo andiamo a copiare e lo incolliamo in questa sezione naturalmente possiamo cambiare qualche parola se vogliamo togliamo questi puntini test url questo è dove andiamo a inserire l'url del nostro prodotto in modo da monetizzare quindi Glucotrust clicchiamo su promote e clicchiamo su create hoplink copiamo questo encrypted hoplink e lo andiamo a incollare in questa sezione bene e qui adesso abbiamo la ad body quindi in questo caso andiamo a copiare l'email body copiamo e incolliamo andiamo a espandere questa sezione un secondo qua mettiamo il nostro nome Paolo ok qui naturalmente abbiamo click here and learn now quindi questo sarebbe stato un link che però non possiamo cliccare in questo caso andiamo a sostituire questo link e anche questo con questo test url di prima uno qui e uno qui quando avete completato tutto cliccate semplicemente su submit ad vediamo che la ad è stata successfully submitted to 1000 members quello che dovete fare poi è naturalmente andare a ripetere il procedimento decine e decine di volte ci sono un sacco di prodotti che possiamo promuovere sul marketplace di clickbank su digistore o su altri affiliate network di nostra preferenza il procedimento non cambia questo procedimento è utilizzato per promuovere diverse opportunità in diverse nicchie naturalmente vi consiglio sempre di andare a visualizzare il prodotto che volete promuovere per essere sicuri che il prodotto sia valido in modo da non inviare nessun tipo di scam a nessuno cercate di essere il più ATC possibile utilizzando questa tecnica e questo direi che è tutto per questo video come al solito vi ringrazio per averlo guardato fino in fondo e vi ricordo nuovamente di cliccare sul pulsante mi piace se avete trovato questo tutorial utile e interessante e sul subscribe al mio canale per la notifica immediata dei miei futuri video e tutorials noi ci vediamo alla prossima ciao